Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Carbonara, per se l'ha visto il mondiale dell'Italia, se non l'ha visto non rispondo. Ragazzi siamo al porto dei Gallipoli, qui è famosa la caccia alle ontre. Le ontre sono delle balenottere spiaggiate. Si trovano su. La tua ragazza? Morta. Cosa ha fatto Rebecca? Lasciate stare mia sorella. Non l'ho visto, non l'ho visto, giuro. Muoiono, ho tempo 3 secondi dopo. Porco Dio, porca mattonna, ti spacco la pelle. Ragazzi, io non ce faccio più, perciò la mano. Ragazzi, ho ammazzato... Guarda, facciamo così. Guarda, facciamo così. Ok, poi facciamo tipo... Ti mi pregunto se tengo Mucciano o no, via. Ah no, vieni, vieni. Mucciano o no, via. Ti mi pregunto se tengo Mucciano o no, via. Ti mi pregunto se tengo Mucciano o no, via. Mucciano o no, via. Ok, vai. Ok, vai. Su, vai, vai! Quanti armi avete? Due armi. Ah, due. Dai coglione, non mi devi rompere. Mucciano o no, via. Vai la la calle. Dei nostri. Oh! 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 Ma non ce l'ho l'altra bianca. Ma tu sei siente? Eh, sennò c'è... Questa è bella, eh. No! Fat bici? No! Non c'è scritto? Niente! Quella bianca lì! È una canotta. È una canotta. È una canotta in due? Non posso mettere una canotta. Perché? Perché lo sai. No. C'è una red, però mi è venuta. No. Adesso... Giuro che l'hai guardata una canotta in su. No, mi hai preso di me. È questo! È il cameraman 2024-2025! Prea sulle mani per Alexi! Dai! Non è che è stata diretta per sbaglio? Perché è stata lei? Aspetta, andiamo qui dietro. Quando, quando, quando carico il modem? 80%. Ok, andiamo qui dietro. No. Oh, beh! Che becca! Quazia! Ok, vieni qua, Alexi. Cosa stai dicendo? Ah, va tutto ok. Ok, che stavo attimando. Quanto manca arrivare, eh? Sono di sporchi di DNA. Ma che... Toglila, toglila. Di DNA, voglio dire. Ma ci sono anche le raglie, le frise... Le raglie, le fighe. Mi passi il tacchino. Occhio che le raglie al sud significano... Mi passi il tacchino? Sì, ora te lo passi, lo ti so. Ragazzi, ringraziamo. Se me ne fai io, per vedere lo zen... Faci oltre anche la mozzatilla. Un amore. Un minchia parli, fra. Come vai? Non usa niente. Usa niente. Mi sa che mai tu è morto, eh? Pronto. Ma io posso guidare tipo il gommone, no? Sì. Vabbè, stai lì. Stagliarsi. Non vedo ora che... Non vedo ora che è settembre, bene. Allora... Cambiamoci, ragazzi, che parliamo. Vintesco. Allora, per cui il caso significa... O Alessia si sta secando... O si sta secando... Come si tiene? No, non vengo, bro. No, ma se lo vado a mettere di nuovo. Perché è attaccato a questo cavo? Ce l'ho lasciato a 5 euro, palco, zio. Hai buttato a 5 euro. Ragazzi. Ragazzi. Che è attraverso? Che è attraverso? Te ne vedi una chimica? Mi dè un bacio sulla bocca. Siamo cugini, Matteo, basta. Ma non siamo cugini! Ragazzi, siamo sulla calcamento. Ragazzi. Ragazzi. Ok, vai. Io ci ho detto prima. Ci sono. Io non c'erano una cosa, assolutamente. Oh, abbassa sta caccio... Sto parlando di merda. Sta cazzo di merda. Sto parlando di merda. Sta cazzo di merda. Sta cazzo di musica, bò. Sta cazzo di musica, bò. Sta cazzo di musica, bò. Sta cazzo di merda, eh. nomino per la rinnovazione di Rebecca parziale io me ne vado volentieri vedi, è una persona veramente cattiva senza valori è incinta tra l'altro no incinta di Pablo Daniel Osvaldo ragazzi Rebecca è fidanzata con Osvaldo giocatore ex Roma Webbo ciao oggi siamo nel diciamo i gossip dei creator voglio fare una gag ma non la faccio perché ti voglio bene bravo sarebbe uscita da veramente bella dimmi all'orecchio eh si sente parete mente Alice Perego è qui come nostra inviata di camper island vieni qui per favore c'è la roba del camper mamma mia Alice da quello di sei fidanzata sei diventata sociale sono perso bene mi sei totalmente persa la testa è una roba folle sto sulla mia bottega bag sto con un be... hai si non è di... mio fratello mio fratello ma tu sei sta roba del mio fratello chat ma che cazzo vuol dire mio fratello mi piace questa persona mi piace ma non mi caga mi piace ma non mi caga ho detto mi piace ma non mi caga mi piace ma non mi caga ti sei mai pentito di una film che hai fatto ti sei mai pentito di una film che hai fatto no ma non mi caga d'aula mi cagliari vieni stasera vale amore si gira? Non ci posso credere. Ah ma guarda. Di che non ci sono? Matteo non ti ha invitata. Se lo toccate per due ore. Ma voglio parlare di questa cosa. Tranquilla guarda che bella la riproduzione. Amore ci sentiamo dopo. Va bene suo amore. Ma perché le fate incazzare apposta? Ah non devi toccarlo. No è vero non devi toccarlo. Perché lei rifiuta l'odore l'odore lo uccide poi. Non devi toccarlo. Non inizia da fare questi discorsi. Ti posso fare un abbraccio. No ragazzi non posso picchiarla. Non è tisana con la Red Bull? No è una tisana. Sì no con la Red Bull sì però con la tisana. Ok. Oh vieni qua. Ma perché ti dici sempre le tette? Basta Rebecca. Lascia stare Rebecca. Perché non vorrei che. Papà V. Basta. No non vorrei che. Basta. Sai che papà V. Basta. No. Droga. Armi. Pezzi che cadono. Non ho mai avuto una chiesetta sull'albero. Lasciamo stare Rebecca per favore che è la. Hai preso l'albero che si chiama? Rebecca è tipo. Ma lo devi dire. Io sono l'altro. Allora io voglio sottirare. Io so. Porta ci a buttare. Ah no non lo so. Oh me non lo so. Porta ci a buttare. Oh me non lo so. Porta ci a buttare.